Era il 1992, un pomeriggio d'ottobre, quando il barchino su cui si trovavano i figli gemelli di 14 anni di Giampaolo Boscolo, appena sceso per andare al lavoro, è stato speronato a Lido di Venezia. Luca morì. Il caso sollevò clamore finendo sulle prime pagine dei quotidiani locali e iniziò un iter processuale infinito. Lo scorso luglio il signor Boscolo lanciava un appello ai nostri microfoni. In questi mesi si è rivolto alla procura presentando una perizia. La perizia, il movente di come sono andate le cose. Questa è la perizia. La barca sua è andata sopra ai ragazzi. Ma la risposta è stata negativa? Io voglio una risposta da questa procura, perché questa procura per me ha paura. Questa è la seconda cosa che mi mandano. Sempre uguale. Allora io faccio così, così e così. Io voglio una risposta dalla procura, ma una risposta perché io voglio giustizia. Il signor Boscolo continua a sottolineare il fatto che l'altro figlio, che era sulla barca, non sia stato mai interrogato sui fatti. Poi c'è mio figlio, che era a bordo del barchino insieme con il suo fratello, che è il testimone oculare. E non è mai stato chiamato. Non è mai stato chiamato. Io non so perché. Non mollo, non mollo, non mollerò mai. Voglio giustizia. Devono darmi anche una risposta, non un foglio di carta così, che non c'è nulla. No, io voglio risposta. Una risposta equa. No, io voglio risposta.